Romualdo Tancredi era una persona lì già al dovere, molto responsabile. Queste le parole con le quali il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ricorda il dipendente comunale trovato senza vita davanti al municipio. Non lo conoscevo bene, ha dichiarato alla nostra redazione, perché mi sono insediato da pochi mesi, ma il dirigente russo dell'ufficio Tributi aveva una grande stima di lui ed è per questo che gli era stato affidato un incarico di grande responsabilità, gestiva l'economato. L'intera amministrazione è vicina alla famiglia. Romualdo, laureato in giurisprudenza, era il primo figlio insieme alla sorella gemella ed aveva un fratello più piccolo. Era sposato con Laura Battagliese, stimata insegnante di Celle di Bulgaria, dove la coppia ha vissuto fino a poco tempo fa, prima di trasferirsi a Salerno insieme al figlio Nicola, che a dicembre compirà quattro anni. A presiedere la cerimonia della promessa di matrimonio nel 2019 fu il sindaco di Celle, Gino Marotta, e un grande dolore sapere che Romualdo non c'è più, dice commosso. Si era ben integrato nella nostra comunità, una persona squisita, non doveva morire così giovane. A Tortorella lo ricordano con grande affetto. Era meraviglioso, rispettava tutti, buono e garbato, un bel figlio della nostra comunità. Questo è quanto dicono di lui tra le lacrime. Sono vicino alla famiglia che spero, dichiara il parroco del paese, Don Francesco Alpino, trovi la forza per superare questo grave lutto, ricordandosi che la vita deve andare avanti e che c'è un bambino, il piccolo Nicola, rimasto all'improvviso senza papà. Chiusa nel dolore la famiglia, attorno ad essa coloro che hanno conosciuto Romualdo, la sua morte improvvisa è stata per tutti un colpo al cuore. A seguito del grave lutto sono stati ridimensionati i festeggiamenti previsti per il 22 ottobre in onore di San Felice. Niente banda musicale, fuochi pirotecnici, tanti messaggi di cordoglio al padre di Romualdo, il sindaco di Tortorella, Nicola Tancredi, apprezzato e stimato da tutti i suoi colleghi. 105 TV si stringe attorno alla famiglia esprimendo le sue sentite condoglianze.